Ruspenazione e strada chiusa da questa mattina ad Avellino sono in corso le operazioni di demolizione delle palazzine di via Roma, Civici 7 e 9. E' una cosa da dover fare perché comunque pensare a avere la sicurezza di non dover crollare più col terremoto o eventuali altri terremoti, era giusto farlo questo intervento. Un po' di malinconia oggi. Sì, un po' così perché c'è tutto lì dentro, c'è tutto il mio passato. Un intervento dei privati che si concluderà dunque nel giro di pochi giorni. Abbiamo avuto assicurazioni da parte dell'impresa che accelereranno i tempi di demolizione, quindi penso di qui a Proco riapriremo di nuovo la viabilità a via Roma. Sul fronte dei cantieri in città l'assessore genovese annuncia sarà l'anno della svolta per tunnel e metro leggera, le due grandi incompiute del capoluogo. La prima metà del 2022 dovrebbe vedere la fine di queste opere. 8 milioni da investire, mezzi pronti e accordo con l'AIR per completare ed è corsa contro il tempo. Si deve chiudere entro luglio o il rischio è quello di dover restituire i fondi all'Europa, circa 24 milioni di euro. La metro leggera è quello di metterla in esercizio, siamo in nostri uffici, i nostri ragazzi stanno lavorando incessantemente su questo tema. Ci sono da ultimare piccole cose, lo stiamo facendo, speriamo di metterla in esercizio quanto prima.